Il gruppo Estra sempre più protagonista sulla costa adriatica. La multi utility del gas ha acquisito altre quote di piceno gas vendita, portando la sua partecipazione al 90% della società ascolana. Estra Clima si aggiudica a bando regionale per rendere energicamente più sostenibili le sedi di Arezzo e Prato. L'investimento di oltre 500 mila euro eviterà emissioni per oltre 37 TEP, tonnellate equivalenti petrolio. Estra sostiene il progetto di Giulia Capocci di partecipare ai giochi paralimpici di Tokyo 2020. La tennista aretina, disabile, è 34esima del ranking nel singolo e 20esima in quello del doppio. Contratti energia, segnalati nuovi casi di raggiro con sedicenti venditori di Estra. Estra ricorda che il suo personale presenta sempre un tesserino di riconoscimento con foto e nominativo del venditore. Contratti energia, segnalati nuovi casi di riconoscimento con foto e nominativo del venditore.